Ciao! Un modifier che risulterà familiare a chi ha a che fare con i programmi di disegno è il modifier Lettice. Se Hook ci faceva spostare alcuni pezzi del disegno grazie ai Vertex Group, Lettice può funzionare anche senza. Però Lettice, come vedete da solo, è in rosso, ha bisogno di qualcos'altro. Ha bisogno di un oggetto però di tipo Lettice e quindi io lo devo creare sulla mia scena. Creo un oggetto e lo trovate qui nell'elenco Lettice. Eccolo qua. L'oggetto Lettice è un oggetto che vi appare inizialmente come un cubo, è un oggetto di blender generico, si può usare anche per le mesh. Ha delle proprietà speciali qua giù, che la risoluzione, come vedete, ha questi tre valori perché la risoluzione può cambiare sulle U e vedete che aumenta il numero di linee in orizzontale, sulle V e aumentano il numero di linee sulla profondità e sul W che è quest'altra direzione. Quindi nel momento in cui io ho un disegno potrebbe non servirmi per niente quello delle V e quindi potrei portarlo anche a 1 invece di 2. La profondità è un disegno e magari qua mettiamo un po' più piccoli, facciamo 4 per parte, ecco. Allora questa è una scatola di deformazione diciamo. Quindi io la devo prima preparare rispetto al mio disegno. Quindi la ingrandisco e faccio in modo che il mio disegno ci sia interamente contenuto. Non è obbligatorio, però questo determinerà la zona dove avverrà la mia deformazione. Lo restringo un pochettino e adesso che potete vedere che diciamo il disegno è racchiuso qui dentro, se io vado nei modifier dell'oggetto Grease Pencil in Lettice e scelgo l'oggetto Lettice che ho appena creato, non succede niente, però quello che mi è permesso adesso è modificare l'oggetto Lettice e quindi devo andare in Edit Mode dentro l'oggetto Lettice e vedete un po' come una Mesh a tutti questi punti. Voi li potete prendere e spostare e il disegno verrà deformato quindi grazie allo spostamento di questi elementi. Quindi avete la possibilità di creare delle deformazioni di forma che sono molto versatili soprattutto perché appunto l'oggetto Lettice in qualsiasi momento potete cambiare nella risoluzione e vedete anche se ha una certa forma non perde diciamo le modifiche fatte a meno ovviamente di fare quello che ho fatto adesso cioè cancellare una riga e ricrearla. Quindi vi consiglio prima di prepararvelo, in questo caso appunto per esempio non mi serve profondità, mi bastano di una direzione e quindi in Edit Mode sull'oggetto Lettice posso andare a creare la deformazione. Come tutte le solite proprietà dei modifier, la Strength da 0 a 1 determina se il Lettice funziona o no e con questo Vertex Group potrei farla agire solo su alcuni Vertex Group oppure come al solito su alcuni layer, su alcuni materiali. Posso fare delle deformazioni anche molto complesse e animarle nel senso di decidere se devono esserci o no grazie alla Strength. Prendiamo questo esempio, non ha alcuno squash and stretch e però ho creato questo Lettice appunto con solo 5 e 2. Se nel mio oggetto Grease Pencil aggiungo il modifier Lettice con questo, adesso posso deformarlo e quindi posso andare in Edit Mode nel mio Lettice e per esempio allungare verso il basso questi due punti e magari anche un pochino questi di Z e invece questi qua, abbassarli moltissimo Z e vedete adesso la palla passando attraverso il Lettice viene deformata, in pratica è come se gli applicassi successivamente uno squash and stretch, in questo momento non sta funzionando benissimo, quindi adesso magari cancello questo Lettice, ne creo uno nuovo, molto semplice, vado nella posizione più bassa. Ricordatevi di disabilitare la registrazione altrimenti viene registrata anche le modifiche che fate al Lettice come se fossero animate. Allora nella posizione più bassa, in maniera che tutta la palla sia compresa e adesso appunto Lettice con questo e vado a deformare il mio Lettice così. Ecco che adesso quindi la palla verrà deformata solo nel momento in cui passa attraverso il Lettice e quindi vedete viene deformata in quell'istante. Ovviamente un pochino viene deformata ancora nella parte di sopra. Posso usare le proprietà della deformazione qui per dire la Strength la metto a 0 e registro, poi quando invece è a 25 la registro di nuovo a 0 e sarà qui nel punto centrale in cui la metto a 1 e registro e quindi adesso il Lettice farà la sua deformazione nella parte più bassa e poi nella parte alta non lo farà e quindi posso decidere in pratica andando in Edit Mode e regolando il mio Lettice posso decidere la quantità di deformazione da dare senza farlo fin da subito. Quindi vedete se lo faccio di poco è uno uno squash piccolo se lo faccio di tanto ovviamente in questo caso è particolarmente strano però come vedete la palla rimbalza di più. Quindi è un modo per non registrare sotto forma di deformazione di fotogrammi queste cose ma di demandarle a una modifica fatta dopo e addirittura appunto con la possibilità eventualmente di disabilitarla momentaneamente per non vederla, di cambiarne la forza, l'influenza, di farla agire come sempre solo su alcuni elementi e non su altri. Grazie e alla prossima!